Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, sono Skilt e siamo tornati oggi sul mio canale, video molto breve, solo per spiegarvi come partecipare al torneo che inizia da lunedì. Dall'8 marzo inizierà il torneo di Yu-Gi-Oh! che ho organizzato, ho deciso di porre un massimo di 64 partecipanti, speriamo di arrivarci. Si svolgeranno i primi turni autonomamente, quindi da lunedì 8 marzo al 10 marzo, il primo turno dal 10 al 12, quindi da mercoledì a venerdì, il secondo turno, il terzo dal 12 al 14, il quarto dal 14 al 16, fino ad arrivare a soli 4 duellanti. Quindi con questi 4 rimasti si svolgeranno le semifinali, la finale e il terzo quarto posto in live su YouTube. Deciderò quindi insieme ai 4 duellanti arrivati a questo punto del torneo che giorno potrebbe andar bene per tutti. Per partecipare e iscrivervi avete tempo fino a lunedì 8 marzo alle 2, quindi fino a prima dell'inizio del torneo, l'importante è che non siano già stati raggiunti 64 partecipanti. Potete semplicemente iscrivervi nel server Discord, trovate il link qui sotto in descrizione se non siete ancora all'interno del server. Nella chat torneo basterà scrivere chiocciola schilto partecipo più il nome del deck che userete nel torneo. E automaticamente sarete iscritti, svolgerete i duelli appunto nelle giornate autonomamente contattando il vostro sfidante che vedrete dal tabellone del torneo che manderò. E duelle rete su Dwelling Nexus che è un simulatore online, basterà semplicemente registrarvi se non l'avete ancora fatto. È molto simile a Edo Pro e quindi se avete usato Edo Pro fino ad ora non avrete problemi a usare Dwelling Nexus, è anche abbastanza semplice. Online, accessibile sia da cellulare che da PC, quindi per tutti. Spero di avervi detto tutto, per leggere tutti i dettagli potrete leggere nella chat importanti del mio server Discord. Trovate ancora, come vi ho già detto, il link in descrizione per entrare, leggere e iscrivervi. Non c'è nessun costo di iscrizione, è tutto gratuito così e ovviamente avrete l'opportunità di diventare campioni nel server Discord e di duellare in live su YouTube le semifinali e la finale. Spero vi sia piaciuto, iscrivetevi mi raccomando, vorrei fare veramente un bel torneo, sarebbe interessante vedere un bel po' di duelli avvincenti. Se avete qualsiasi dubbio scrivetemi nei commenti, cercherò di spiegarvi tutto nel miglior modo. Grazie a tutti per l'attenzione, ciao a tutti!